Ciao a tutti da Coin1988, nell'altro video di cui vi lascio il link in descrizione, avete potuto assistere al gameplay del capitolo 1 di Little Nightmares 2. In questo video invece potrete assistere a tutte le morti e i momenti divertenti dello stesso capitolo. Vi auguro buona visione e buon divertimento. Un'aragnatina. Porca vacca! E' la prima difficoltà, crepiamo. Aspetta, ma non puoi ripartire così. C'è la life. Dai, ma era arrivato. E' qui? Devo andare per forza di qui, no? Sicuramente morirò per quello che sto per fare. E lo sapevo, io ho visto il tronco. E' questa musica inquietante. E' questa musica inquietante. che cosa deve trovare qua? va bene come si fa? come si fa? è sveglato eh ti pare giusto che io mi son dannato a oh oh un stella ma perchè non fa più niente addirittura penetra vieni ma si gioco ma perchè si è bloccato oh Gesù abbiamo bloccato no 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 olè colpo in testa mi ha dato e vai si inizia a correre come i dannati corri 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 mi ha preso proprio no 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 non è vero che mi ha preso non è vero che mi ha preso questo guarda qua questo guarda qua quindi è profondo che cosa devo fare no no è vero che mi ha preso qua ah lo devo richiamare ok è vero che mi ha preso eh no ma preso ma perché abbiamo preso questo cappello già ma perché non mi prende perché dovremmo passare di qua questo si butta l'avventura questo qua vai sott'acqua preciso si è alzato da sola perché era finito il fiato come ha fatto a vedermi mi ha preso ma dai è colpa di coso qua ma non è possibile che mi ha preso oh puliti come nuovi guarda come se non fossero mai stati nella melma porca vacca ciao